Benvenuti a un nuovo numero di Tutto è possibile a Dio, oggi abbiamo con noi Rosaria Orecchio. Ci racconterà della sua esperienza e in modo particolare, come ha conosciuto il Signore Gesù Cristo nella sua vita. Da dove vuoi iniziare? Allora, posso iniziare dal fatto che io frequentavo la chiesa tradizionale, andavo in chiesa, però non avevo nessuna benedizione. Come entravo così uscivo perché non conoscevo veramente realmente il Signore. Diciamo non realizzavi nulla di particolare che toccava la tua vita, scuoteva la tua vita, ti portava più vicino al Signore? No, c'erano le statue. Di solito mia mamma mi faceva toccare la statua di Gesù e io solo questo sentivo un piacere in quella cosa, però io non avevo nessun stimolo. Basta, poi così è andata avanti fino a quasi 16 anni, non facevo niente di strano, era una ragazza normale, la mia famiglia era tranquilla e mi fidanzai. Fidanzai con me, il mio ragazzo era evangelico e mi invitò ad andare in chiesa. Comunque entrando in questa chiesa ho iniziato a sentire di lodare il Signore, lo glorificavano in un modo che io non avevo mai visto, anzi ebbi un poco di timore, disse ma come sono strani. Poi invece frequentando vedi che là c'era veramente la presenza di Dio. Mi accorgevo che era un modo diverso di pregare, non avevo mai pregato così. E iniziò ad avere delle benedizioni, iniziò a capire che il Signore c'era, che era vivo, che se lo cercavamo lo trovavamo e anche io volevo trovare questo Signore che vedevo in tutti, ma io non sentivo niente perché non avevo nessuna conoscenza. Poi piano piano, piano piano iniziò ad avere delle benedizioni perché sentivo parlare Gesù di come l'avevano ucciso per i nostri peccati e mi commuovevo, piangevo davanti a Lui. E questo è andato avanti per un bel po', fino a che... Quindi, scusami, ti sei ritrovata, diciamo, in un ambiente dove c'erano delle persone che oltre alla loro religiosità avevano realizzato qualcosa per cui Dio era più reale. Questo, diciamo, ha prodotto nella tua vita qualcosa che ti ha smosso dalla tua religiosità e ti ha spinta, in qualche modo, a cercare di approfondire la tua conoscenza del Signore. In questo, diciamo, ti è stato anche detto di leggere la Bibbia, tu hai iniziato a leggere la Bibbia, lo facevi già da prima. Certo, certo. Leggevano la Bibbia in chiesa, poi c'erano le testimonianze che mi toccavano e andavo a cercare nella Bibbia delle cose che loro dicevano che si potevano fare. Quello che sentivi, riportare dalla parola di Dio, poi tu cercavi di approfondirlo. Sì, iniziai così a leggere un po' la Bibbia. Sì. E ripeto, iniziato ad avere delle benedizioni che io non conoscevo, non avevo mai provato. E che vuoi dire quando cominciai a sentire delle benedizioni? Ma sentivo il cuore che mi batteva, mi veniva da piangere, non l'avevo mai fatto. E questo lo associavi con un'esperienza tua emotiva o vedevi dietro questo qualcosa di più? No, vedevo che c'era proprio la presenza di Dio. Quindi realizzavi la presenza del Signore? Sì, quello che io non avevo mai visto nella chiesa. Non ti era mai successo precedentemente? Che cosa ha prodotto questo nella tua vita? Beh, ha prodotto che avevo quasi preso la decisione di fare un patto col Signore. E che cosa vuoi dire quando, per spiegarlo a chi magari, che volevi fare un patto col Signore? Volevo far parte di questa famiglia, di essere pure io una figliola di Dio. Volevo sentire la sua presenza in me, perché io sentivo parlare, però non capivo. E quando ho iniziato a... Il patto col Signore, forse perché io lo comprendo, volevi fare il battesimo in acqua. Cioè, quindi non era voler aderire tipo a una nuova setta, ma... No, no, assolutamente. Ma in realtà fare quello che indica la parola di Dio. Certo, certo. E poi quello che facevano gli altri membri della Chiesa? Sì, ma perché lo facevano altri o perché era scritto nella Bibbia? Anche perché c'era scritto nella Bibbia, però io li vedevo nel vivo che erano diversi da noi. Perché ti colpiva che l'esperienza tratta dalla parola di Dio che loro facevano produceva dei risultati. I cambiamenti, era un'altra cosa. Credo sia importante specificare questo, perché uno può pensare che siamo stati influenzati perché alcuni facevano certe cose e le facevamo noi. No, 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 no. No, in realtà perché partiamo da quello che la parola insegna. Certo, prima la Bibbia andavo a leggere. Sì. E poi vedevo le trasformazioni che c'erano nelle persone. Avevi delle testimonianze evidenti di cambiamento. Che mi toccavano e volevo far parte anche io di questa famiglia. Sì. Poi invece ebbi delle incomprensioni un po' con mio marito, un po' con i miei familiari. Hai vissuto delle situazioni particolari. Ero all'inizio della fede, quindi non ero fortificata. E mi allontanai, ma non mi allontanai dalla chiesa, perché io frequentavo comunque la chiesa. portate i miei figli alla scuola domenicale, perché dissi questa è la verità. Io non li porterò in altre chiese. E questo è andato avanti per un bel po', perché io poi avevo... Quindi, perdonami per chiarire bene, tu hai continuato a frequentare questo luogo dove realizzavi che la realtà di quello che la Bibbia ci dice era vissuto. Però nel disporti per un'esperienza più profonda col Signore, diciamo, lì ti sei un po' arenata. Sì. Ok. Perché sono stata ostacolata. Perché ci sono state queste situazioni che ti hanno creato delle difficoltà. E allora io, non essendo fortificata, non ho detto va bene, poi magari in seguito ci ripenserò. Rimandavo, rimandavo. Quindi, diciamo, anche frequentando, come tu dicevi, un contesto diverso, però sei ricaduta nella religiosità. Mondanità. Questo è anche importante per far comprendere che noi crediamo che non è il posto dove noi siamo o una religione piuttosto che un'altra che cambia la nostra vita, ma è la nostra esperienza diretta col Signore. Certo. Quindi poi che è successo? È successo che poi abbiamo fatto delle amicizie e mi sono... Stai parlando del tuo contesto familiare. Familiare, sì, con mio marito. Andavamo a fare i viaggi, si usciva tutti insieme, poi faceva il foggio di anelli, gioielli e quindi tu volevi sempre essere come loro. E ripresa più che altro dalla vanità, dalle cose. E mi presi un po' questa vanità del mondo che c'è nelle amicizie mondane. E questo è andato avanti per quasi vent'anni. Sì. Frequentavo, però non riuscivo a prendere mai una decisione. Rimandavo sempre. Poi un giorno, lessi dal calendario evangelico, la storia di un uomo, che gli parlavano di Gesù e lui rimandava sempre. Diceva, non ho tempo per queste cose. Quando fu che stava alla fine dei suoi giorni, stava per morire, gli parlarono di nuovo di Gesù. E lui disse, non ho più tempo per queste cose. Questa cosa mi toccò profondamente. Perché dissi, anche io faccio così, rimando, rimando. Ti sei rivista un po' in questa esperienza. L'esperienza di quest'uomo disse, fa che non succeda anche a me la stessa cosa, che poi non avrò più tempo. Perché comunque per me questa era la verità di Dio. Non c'era più niente da andare a cercare. E così io e mia cognata Sara decidemmo di frequentare di più la Chiesa negli studi. Per la preghiera. E tutto questo mi fece ritornare indietro nel tempo. Quel desiderio che avevo di conoscere di più il Signore. E capì che ero una peccatrice. Che il Signore Gesù era morto per me sulla croce. E che avevo bisogno di essere salvata. Quindi facendo di questi studi io capì tante cose che non avevo ancora capito. Nel frattempo il pastore mi chiese come mai da tanti anni non avevo preso ancora una decisione. E questo mi sembra una cosa del Signore. Era un piano del Signore. Che ha incoraggiato ancora di più. C'era il tuo desiderio. C'è stata spronata in questa direzione. Incoraggiava ad avvicinarmi ancora di più al Signore. A fare un patto con Lui. E tutto questo in poco tempo. Io avevo il desiderio di stare sempre in Chiesa. Di pregare. Di chiedere perdono al Signore dei miei peccati. E di cercarlo sempre di più vivo. Perché sentivo che era vivo vicino a me. E poi fece il battesimo. E in pochi mesi. Cinque o sei mesi. Il Signore mi benedisse anche col suo santo spirito. Perché io veramente. Quel periodo fu meraviglioso. Lo cercavo con tutto il cuore. Lo sentivo vicino a me. Tutto quello che leggevo si avverava. E portavo i miei figli. Di petto alla spola domenicale. Ero felice. Di stare in Chiesa. Prima mi annoiavo pure forse. Oggi sono passati tanti anni. Ed è sempre la stessa cosa. Anzi. È sempre rinnovato in me quel desiderio. Di stare più vicino al Signore. Di frequentare sempre di più la Chiesa. Non l'ho più abbandonato. Perché ormai io so che questa è la verità. Non potrei mai più farlo. Cosa posso dire di più? Che i miei figli sono salvati pure loro con le famiglie. E questo mi ha dato anche più gioia ai miei nipoti. Certo, il Signore ti ha incoraggiato nel vedere l'opera di Dio non solo nella tua vita ma anche nella tua famiglia. E da allora non mi ha più lasciato. Io mi allontano ma non mi allontano perché a volte vengono dei periodi di tristezza, di stanchezza per delle cose di famiglia. Ma lo ritrovo sempre. Il Signore che mi aiuta, mi dà la forza e mi porta avanti sia nelle prove e sia nella gioia. Sta sempre vicino a me. Io lo sento vicino. Quando non lo sento ho paura di... Ti preoccupi. Mi preoccupo. Sì, lo cerco con più fervore. Quindi grazie a Dio oggi il Signore è una realtà nella tua vita. Sicuramente. Non potrei mai più lasciarlo perché è in me. Bene. Vuoi dire qualcosa in breve a coloro che ci stanno ascoltando? Sì, posso dire di cercare il Signore con tutto il cuore perché il Signore dice chi mi cerca mi trova. Chi trova me trova la vita. Io l'ho trovata questa vita in Gesù. Niente e nessuno mi potrà mai far allontanare da Lui. Chiudetevi nella vostra cameretta, cercatevi il Signore, inginocchiatevi e cercatevi. Il Signore si fa trovare. Questo è quello che posso dire. E troverete la gioia, la pace, l'amore, la serenità in famiglia. Quello che manca perché oggi siamo in brutto periodo per le famiglie. Veramente c'è bisogno del Signore in casa. Non c'è più. Grazie a Dio possiamo realizzare il Signore a cui tutto è possibile. Vedere come Egli è potente da perdonare i nostri peccati, da trasformare la nostra vita. E possiamo poi di conseguenza essere di incoraggiamento anche per gli altri. proseguendo questo cammino meraviglioso dove Dio è al nostro fianco. Un Dio vivente che non ci lascia, non ci abbandona e che un giorno ci porterà con Lui nel cielo per godere con Lui per l'eternità. Un Dio vivente che non ci porterà con Lui per l'eternità.